Quel mutuo per il garage? Ma per la macchina scusi No no per viverci Per me Abbiamo valutato la sua proposta e non la si cava nemmeno in striscio Vabbia 100.000 euro Ma pagavi nei 96 anni A cavolo è pagata 2,70 euro al mese Oh io ci ho contratto a tre giorni a Pito con la Telecom Vado negli uffici a scuotere anche le riariche delle stampanti Poi ho fatto il bagnino al lago di Massaciuccoli Ho fatto anche l'esperto di gengiviti In garanzia È offerto l'asta della Barbie Della sua figliola Ecco bravo vai Levati da oglioni Fai un me baglioni Vai che c'è sempre una riga di ruggire sulla fronte di quando mangiavi nei bussoli e ragioni Non ti mando in culo perché sei un signore E io non lo piglio a stiaffi perché la merda schizza